Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Teleitalia. Vediamo i numeri aggiornati da 5 minuti. In Italia i contagi sono 889, le vittime 21. Nel mondo i contagi sono 85.681 e 2.933 vittime. Vediamo che la Cina è il primo paese con 79.251 contagi, seguito dalla Corea del Sud 3.150, l'Italia 889, l'Iran 593, in Giappone 234, 102 a Singapore, 94 a Hong Kong, 79 in Germania, 73 in Francia, Stati Uniti 66, Kuwait 45, 42 Thailandia, 39 Taiwan, nel Bahrain 38, in Spagna 32, in Australia 25, 25 in Malesia, nel Regno Unito 23, negli Emirati Arabi 21, in Canada 16, Vietnam 16, in Svezia 12, in Macau 10, tutti gli altri stati sono sotto le 10 unità. ha fatto alla sua apparizione anche, ad esempio, in Messico. Io vi ringrazio e vi auguro buona giornata, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita e nella community trovate tanti sondaggi a cui poter partecipare e commentare. Siamo anche in Facebook, nella pagina Tele Italia, dove trovate tutti gli stessi video presenti su YouTube che potete assolutamente condividere con chiunque voi volete. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.